Signori del Governo, onorevoli colleghi, le continue qualificate sollecitazioni del Governo da un lato, ma dall'altro il dibattito nell'Aula parlamentare, ancora prima quello in Commissione di Giustizia, hanno confermato un dato pacifico, cioè quello che le questioni legate alla giustizia sono tuttora un tema centrale per le forze parlamentari. E nel dispiegarsi di questa legislatura, che ha l'ambizione e la prospettiva di essere profondamente riformatrice, non va sottaciuto il dato che il tema della riforma della giustizia si ponga come una delle priorità per l'Italia. Questo perché nel recente passato abbiamo rischiato sul tessuto connettivo della nazione un gravissimo vulnus, abbiamo vissuto ore buie, abbiamo vissuto un interminabile conflitto tra politica e giustizia, che ha determinato veri e propri obrobri giuridici, che ha determinato compromessi al ribasso, che ha determinato degli iter legislativi schizofrenici. E purtroppo abbiamo in Italia corso un rischio ancora peggiore. Abbiamo corso il rischio di una deriva di una Repubblica giudiziaria fondata sull'azione penale, in cui la sovranità popolare fosse demandata alle procure della Repubblica che avessero titolo ad esercitarla talvolta in funzione della discrezionalità, quando non anche dell'orientamento politico. Tutto questo fortunatamente è oggi alle nostre spalle, perché il principio che ispira l'azione politica di Fratelli d'Italia è quello di fare in modo che tutti gli interlocutori istituzionali, Governo, Parlamento, Magistratura, Avvocatura, Accademia, si ritrovino concordi insieme nel tentativo di raggiungere quel fine invocato proprio l'altro giorno a Napoli dal Capo dello Stato, di avere finalmente un processo agile e moderno. Ed è per far questo, ed è in questa logica, ed è in quest'ottica che si inserisce il disegno di legge che oggi andiamo a valutare e ragionevolmente ad approvare. Questo perché la riforma cartabbia, entrata in vigore, partiva da un presupposto diverso rispetto all'ordinamento preesistente. Ha aumentato a dismisura i reati procedibili a querela rispetto a fattispecie che erano tipicamente procedibili di ufficio, in funzione di un principio, quello della giustizia riparativa, che vedeva intorno alla persona offesa, intorno alla vittima del reato, non più un soggetto estraneo al protagonismo del processo, ma che ne faceva in qualche modo il cardine centrale. Il problema, e alcuni dei problemi erano effettivamente addirittura preesistenti alla riforma cartabbia, che quando la riforma ha agito sul catalogo dei reati, ha finito col non interessarsi di taluni che richiedevano correttamente modifica e ne ha inseriti tali altri che invece hanno generato un fortissimo allarme sociale per chi avrebbero determinato vere e proprie forme di impunità. Il disegno di legge, a prima firma del ministro Nordio, interviene con grande equilibrio ed efficacia nel tentativo di fare in modo che il faro di ogni riforma, da quella del singolo reato sino a quelle di sistema, sino a quelle di rilevanza costituzionale, separazione delle carriere, discrezionalità o obbligatorietà dell'azione penale, consacrazione dei principi del giusto processo, debba essere sempre declinata in funzione di due esigenze, tutela dei diritti del cittadino e tutela della collettività. Allora, la riforma proposta dal ministro Nordio agisce chirurgicamente su alcune fattispecie, laddove determinati contesti ad alto tasso di criminalità organizzata potevano in qualche modo condizionare la fruizione dell'azione penale attraverso l'istanza della querella di parte. E si tratta di un disegno di legge assolutamente chirurgico. Sono quattro articoli, quattro, di cui peraltro uno relativo alla invarianza finanziaria e sono rispettivamente modifica al codice penale, modifica al codice antimafia, modifica al codice di procedura penale. Articolo 1, con relazione agli articoli 270 bis e 416 bis, si procede di ufficio sempre, sempre, ogni qualvolta sia contestata l'aggravante del metodo mafioso o della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sempre. Articolo 2, modifica al codice antimafia. Anche il delitto di lesioni personali deve essere perseguibile ad ufficio, sempre, ogni qualvolta sia commesso da soggetto sottoposto a misure di prevenzione e peraltro nell'arco di tre anni dal momento dell'esecuzione della misura. 3, modifica dell'articolo 380 del codice di procedura penale. Consentire l'arresto obbligatorio in flagranza anche in assenza di querela quando la persona offesa non sia immediatamente reperibile. Più altre norme di coordinamento con il rito direttissimo e il rito direttissimo monocratico. E' questo il percorso corretto, andare sempre a bilanciare le necessità di deflazione del carico giudiziario, di celerità dei processi con il primario dovere di tutelare sempre la pubblica sicurezza. Uno Stato non può e non deve mai opporre la resa, la rinuncia, l'ignavia, la stasi, la abdicazione rispetto allo specifico dovere di proteggere la collettività. E quando parliamo di contesti mafiosi o di contesti terroristici, quando parliamo di sovraesposizione delle persone offese o dei cittadini ai rischi di ritorsione, quando parliamo di clima di assoggettamento e di omertà legati alle associazioni criminali, noi abbiamo il vincolo profondo di proteggere i cittadini. E allora non c'è dubbio che la riforma vada coerentemente e coraggiosamente in questa direzione. E gli obiettivi che noi dobbiamo conseguire non sono soltanto quelli della deflazione, a cui sono inevitabilmente connessi anche i fondi del piano nazionale di resilienza. Ma il tema è che proprio noi di Fratelli d'Italia, che siamo stati i più critici in passato rispetto a determinati orientamenti della riforma cartabbia, oggi la difendiamo per due ordini di ragioni. Primo, perché va nella giusta direzione, che è quella di consentire finalmente allo Stato di esercitare fino in fondo la pretesa punitiva, andando a operare una scelta politica sulla procedibilità a querela. Ma soprattutto perché noi difendiamo la valenza degli accordi internazionali. E non perché gli accordi internazionali ci garantiscano in funzione degli obiettivi il diritto ad acquisire i fondi del piano di resilienza, ma perché attraverso il rispetto degli accordi internazionali un Paese difende la propria credibilità ed è quello che vogliamo fare noi oggi. Allora, e con questo concludo, sono finiti i tempi finiti i tempi degli iscrivi e dei farisei che oggi contestano la riforma astenendosi quando fino a ieri hanno votato la legge delega in funzione della quale questa risorsa, questa riforma è stata approvata e si tratta di sepolcri imbiancati che oggi gridano soltanto la loro ipocrisia. Oggi, Presidente, è il tempo della serietà e della responsabilità e quindi insieme al voto convintamente favorevole di Fratelli d'Italia deve aggiungere un plauso al Governo, perché in termini estremamente snelli, lineari, sobri e riuscito a sanare dei vulnus e soprattutto ha dato il senso della continuità a una lotta senza frontiere, senza tregua, al terrorismo, alla criminalità organizzata, alle mafie di ogni dove e di ogni livello, un cancro invasivo e terribile che abbiamo tutti il dovere di combattere e di estirpare. Grazie.